Secondo CougarItalia.com, il portale che promuove incontri tra donne cougar e uomini più giovani, il nostro paese è quello con la maggiore propensione verso la ricerca dell'anima gemella da parte delle donne quarantenni che vogliono un uomo giovane ancora inesperto. E' proprio l'Italia a guidare la classifica con il 62% delle cougar che cerca attivamente un partner con queste caratteristiche, seguita dalla Spagna, 58%, Francia, 53%, Regno Unito, 40%, e Germania, 37%. Il primo portale in Italia a specializzarsi nel promuovere incontri tra donne più grandi e uomini più giovani ha inoltre osservato come questo tipo di relazione sia in crescita in tutti i paesi europei. Le previsioni di CougarItalia.com indicano un giro d'affari che salirà a 200 milioni di euro nel 2018. In quanto ad intensità dell'impegno, secondo quanto ha rilevato CougarItalia.com, più che le quarantenni degli altri paesi sono le cougar italiane ad essere all'assidua ricerca della loro anima gemella. Nel 2017 ognuna di loro ha mediamente avuto 38 appuntamenti. Così nel 2017, considerando che in Italia le donne cougar disposte a rimettersi in gioco alla ricerca di qualcosa di speciale sono ben 2 milioni, si è avuto un totale di 76 milioni di IncontriCougar.alizia Alex Fantini, fondatore di CougarItalia.com e quindi portavoce del primo e più importante sito di IncontriCougar in Italia.com e incontrarsi? Per cercare con discrezione un uomo più giovane o una donna più grande, sia per un'amicizia che per la ricerca di un amore o di un'avventura, il canale preferito rimane il web e CougarItalia.com si conferma anche nel 2018 il principale punto di riferimento per conoscere ed incontrare gente nuova.